Ciao, sono Pietro Sik 0203. Vi state chiedendo che aeroporto è? È un aeroporto dell'Aerosoft Milano Malpensa X. Oggi vi presenterò questo fantastico prodotto di questa grande crassa produttrice. Aerosoft è conosciuta da tantissimo tempo, molto meticolosa per quella che è la cura dei dettagli dei edifici 3D, come anche per tutto ciò che circonda l'Ebron. Possiamo notare l'area di parcheggio, gli alberi, che si vanno ad integrare, ad abbracciare con quei pacchetti di Orvix. Per tutti coloro che usano sode, le Jetway sono animate. Aerosoft va a migliorare quelle che sono anche le luci dinamiche del nostro bellissimo aeroporto, come possiamo notare, e va anche a mantenere quella stessa cura maniacale per quanto riguarda le texture del ground, come le taxiway. Come ho già detto, si va ad integrare molto bene con i pacchetti Orvix. Pier, chi è stato come me in questo aeroporto, sa, e come può notare dalle immagini, le piste sono riprodotte in maniera fedele alla realtà. Vi ricordo anche che questo prodotto è compatibile con i prodotti come Microsoft Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator Steam Edition, Prepare 3D versione 3 e Prepare 3D versione 4. Milano Malpensa X è un prodotto che richiede una macchina performante. Fortunatamente l'Aerosoft ci ha fornito il configuratore che va a disattivare quelle che sono i traffici animati nei pressi dei Terminal, oppure comunque anche quella che è l'Airbnb 3D. Chiaramente questo lì qua va a discapito delle nostre prestazioni. Possiamo notare che il livello del dettaglio è molto elevato, però fortunatamente l'Aerosoft ci viene incontro. Ci fornisce, oltre il manuale in tedesco ed in inglese, ci fornisce anche dei piccoli consigli per il nostro configuratore, all'interno di un file PDF. Tutti noi italiani sappiamo che Milano Malpensa è il secondo aeroporto più grande d'Italia ed Aerosoft lo ha riprodotto perfettamente. Signori, io vi saluto, saluto tutti i membri della crew del Sicilia, continuate a seguire il canale del Sicilia, ciao! Ciao! Ciao!